Sì, vi sto inquadrando degli ananas, sapete perché? Perché abbiamo trovato questo aggeggio qui che ci permette di sbucciare un ananas. Ebbene sì, il nostro interesse è caduto proprio su di esso. Per sbucciare quest'ananas dobbiamo chiudere questo macchinario, inserire un secchiello, cliccare qualche tasto e poi ecco che avviene la magia. Sì ragazzi, ha funzionato! Voi l'avete mai provato?